Quale futuro per la ex Tiberina Trebis? Una domanda alla quale è difficile dare una risposta. Se lo chiedono gli abitanti della Valtiberina, quelli della Valle del Savio, costretti a fare i conti con una viabilità precaria, vista le condizioni della E45. La vecchia Tiberina è ancora bloccata, transennata. Le condizioni di degrado in cui versa questo tratto stradale vennero portate alla luce con la chiusura del viadotto Puleto e la mancanza di una strada alternativa. In quella circostanza venne più volte sottolineato che la ex Tiberina poteva rappresentare una valida alternativa alle E45, ma per essere utilizzata era indispensabile una riqualificazione profonda. Ne seguirono convenzioni e prese in carico da parte di ANAS, ma ad oggi nulla è cambiato, spiega il sindaco di Pieve Santo Stefano Claudio Marcelli. Il primo cittadino di Pieve lo scorso 31 marzo ha scritto una raccomandata al ministro alle infrastrutture Giovannini. Marcelli ricostruisce le vicende della vecchia Trebis e mette in luce anche gli impegni presi a suo tempo dall'ANAS per dare inizio ai lavori di sistemazione. Le promesse di intervento alla nuova convenzione, approvate in tempi record dal Comune per essere consegnata ad ANAS, per adesso nulla ha avuto un seguito. Marcelli sollecita quindi le autorità competenti al rispetto delle intese degli accordi stipulati, nell'interesse di una comunità come quella tiberina, penalizzata fin troppo da questo stato di cose.